Ma scendete per favore Ma in che senso 4 scusami No, dobbiamo essere una sola persona Noi dobbiamo essere una sola persona Ah ma ditelo però scusa Scusate, è perché è come se ho paura, capito? Ho la chiave io? Ho la chiave io? Sono io che comando ragazzi Io comando Ho la chiave Non è vero Cosa cazzo sta succedendo? Ah bisogna spingere Ragazzi perché dobbiamo spingere il masso? Scusate Ma come passi dove? Ah c'ha ragione Ha ragione Andatene Fuggite sciocchi Il grigio per favore Sì E questo ha la stessa identica canzone Identico Sì però chi ha la chiave per favore Grazie Sto già Sto già Purtroppo sto già streamando Sì Sarai una delle 6 persone È incredibile Bene Cazzo No però Così Ragazzi Ci penserò io a salvarvi Non mi posso spostare Quindi dovrete fare tutto il resto voi Io Verrò con voi Ah uno Mi deve liberare Grazie Avete sbagliato Uno deve tenere schiacciato Sì però Fatemi fuggire per favore Mi sento in trappola Mi sento in trappola Oh 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 Ci sono ci sono La porta è nostra La porta è nostra Incredibile Troppo potenza Madonna Troppo forti Siamo troppo forti Ma perché bisogna avere intelligenza Per questo livello di Di cose Collaborazione Collaborazione E di là Insomma dopo Samon Abbiamo visto quanta ne abbiamo Ma dico Che sta succedendo E insomma Qualcuno rimane fuori Ah ma servivano tre sopra Oh E dobbiamo Ah hai capito Hai capito E mo uno Ah però così Eh però bastava dirlo E io devo rimanere fuori No due devono fare il giochetto No io devo venire Non l'ho fatto Sì però Eh vedi Vabbè ma se era così facile Però dite Mamma mia E in quattro E ne servivano due Com'è che finisce così Che chi è Chi è Passi Eh però da Porco giù Il potere della chiave Se lo prende a qualcuno Eh vabbè È incredibile È incredibile Cosa abbiamo fatto Per aprire una porta È incredibile Eh ma questo è il potere Della porta Quindi usciranno tante belle clip Secondo me Porco giù È finito il primo mondo Andiamo a sé Che cazzo vuol dire questo Siamo legati qua Siamo legati Per le palle Incredibile Incredibile Ma davvero Ecco Il lollo Già fa casino Ma mettetevi in orma Allora Io sto col giallo Che il giallo Sta col viola Quindi io sto davanti Io sono seconda Trascenderemo Eh lo sapevo Io lo sapevo Me lo sentivo No 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 Sirate Per favore salvatemi Grazie Per favore Grazie Ma Ehi Giallo Oh incredibile Ha funzionato Qualcuno lo sapeva già Ah dobbiamo No dobbiamo fare l'altalena Eh dobbiamo fare l'altalena Ah Bravi 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 Vabbè Ma io penso di fare l'altalena Ve lo scusate No vabbè Sì però qualcuno Vabbè Ma ci dirò fuori dei tutorial Che sono Uno spettacolo Come superare Primo livello Livello 2 Incredibile Tratto da una storia Eh beh Quando uno si impegna E così Oddio Ci sono rimasto secco No Cosa ho visto Uno sopra l'altro Uno sopra l'altro Come una torre Chi va avanti Gli spacco le gambine No Per favore Perché tutta questa fiducia In me scusate Il grigio Si prenderà la chiave E riviene da noi Mirza ve lo sta facendo apposta Ma com'è che sono Io Perché si è saltato Perché ho sentito La paura Ho sentito Ragazzi C'è un big C'è un big C'è un big bug Ah nuovamente Vai Ah com'è che ci mettiamo In questo modo Così Appariscente Ah perché Così ha più te La persona che non ha saltato Prima è colpa sua C'è stata la finta Un po' di lollo Che mi ha Sì L'ho notato pure io È incredibile Adesso è il giallo Sarà tutto merito del giallo Allora Io mi sposto Giallo per favore Giallo E adesso? Niente Ah Si passa sotto Ah ma bastava dirlo Incredibile Cioè in tutto questo Abbiamo sbagliato tutto Abbiamo eh Non solo io Abbiamo per fortuna Una testa Sì Mancava solo Lollo E livello 3 Grazie Sì C'è La terza parte Del livello 2 Allora E adesso andiamo a destra Non so perché Ma vi voglio riportare No Secondo me Non dobbiamo andare lì Allora Io farò il peso No Ce la faccio Ah ma Non dovevamo cadere Allora Qualcuno scenda sotto Qualcuno Qualcuno Eh no però Vedi Andre mi sa che non hai capito qualcosa Ma dovevamo andare a destra Io e Andre Doviamo tirare Andre tira a destra Vai E però Qualcuno deve saltare meglio Qualcuno deve saltare meglio Eh ma se qualcuno Non sa saltare Eh Ok 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 Bravi Quanta potenza No se saltiamo è peggio Se saltiamo è peggio Eh Lollo va dalla parte opposta Lollo Come è che Lollo vale per due Ah perché la gravità fa più peso Ma stai andando dalla parte opposta È girato È un imbecille È colpa sua No io eh E qua vado io Occhio Cosa È arrivato Ma secondo me il tuo pc ha problemi Ma che zigzag Ha problemi Basta Zingza Eh è tutta la torre Ah una litta torre Questa nostra Secondo me è pure il diavolo Lo vediamo Abbiamo la corda No Ma proviamoci Prima di Di crearci problemi Se fosse stato più difficile Avessi dovuto tenere due persone sopra Sì No ma sicuramente dopo dovremmo fare della fisica applicata Sicuro Adesso Ma adesso Ehm Andiamo Vediamo Eh Oh c E non troppo non c'è borsa Ma non c'è borsa Ah 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 Se non pende andare da solo e lasciarci qua Non era la cosa più brillante da parte Oddio che sottocolo Ah 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 Eh c'è fosse fattibile Qualcuno Qualcuno per favore scende E sposti quel masso Oh What? Ah Ah Sperato Dovete farvelo Atterrare in testa Fatevelo Atterrare in testa Ha ragione Ha ragione Sì però Ha ragione Tiratelo 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 Spingi Eccolo E ora Uno può saltare sopra l'altro Saltate e fai a catapulta Bibi Fai a catapulta Eh Non Non sposti Oddio 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 Ma perché ci Scusa Perché Perché serve saltare Perché serve saltare Ma che cazzo di senso ha il cubetto Scusa E qualcuno si ferma Ok Sì E chi la sposta Siamo fregati Chi scendi Io Scendi Lo sapevo Lo sapevo Me lo sentivo Eh Che presa Incredibile Ah Ma Volevo fare quella cosa Eh Volevo provarci Ma si è salto Che succede Ah Hai capito Hai capito Il perché E mo Uno deve andare E tanto non si muove Finché non è da 5 Si muove solo Ok No vabbè Ma siamo stati troppo forti Carino È semplice Troppo forti Eh Quando la forza è così Credibile È un po' Sì È Un'esplorazione È stata Un'ottima scelta È sacrificare I più deboli Sempre No No Quello Do Questo potrebbe essere Un problema Oddio È Super Mario Il mio l'ho fatto Dobbiamo salvare Dobbiamo salvare Salta Salta Vai No Vieni Vieni Salta Madonna Mi sento poco considerato Devo essere onesta È lì che non sa cosa fare Madonna Eh mi sono sentito poco considerato È quello Allora Adesso abbiamo capito Gialla Venga su di me Per favore Salti Salti come non ci fossero domani Date giù voi Forse perché salto sulla sinistra Non lo so No Si è dimenticata una moneta Ok Io aspetterò qua Subito Sotto Sotto Incredibile Quanto potere Emo Via Via Oddio Oddio Bravissimi Mamma mia Eh qua la vedo un po' da Guinness Un po' da Guinness Sì Sì Perché c'è già il tempo No Signora gialla Signo Mamma mia Eh no Vedi Ma c'era da Sì E come faccio Facciamo Manca un tasto Chiaveli Io voglio cambiare partner Ma guarda che sopra Non me la fa cliccare Maledetta Qualcuno salvi su di me 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 Vabbè però se siamo così forti Due devono andare sopra Guarda Olle E' incredibile E' incredibile Ma qua non c'è un cazzo però Sì ma qua non c'è niente Io sono bloccata Eh qua però la stiamo trollando La stiamo un po' trollando Ah ma bastava che scendesse 3 2 1 La morte Comunque arrivò fino a lì Capito Avevamo Avevamo fatto giusto Basta Lollo viola Ci fissa la porta Sì sì ho chiuso tutto Il verde deve premere Verde Perché non posso salire più di così giusto Voi avete già premuto tutti i dati Eh Voi adesso Ma è scemo Perché la telecamera Esatto Non si sposta la telecamera Non è che dimmi Qualcuno gli tiri una bottiglia Sì ho capito Per favore Oddio Ah ma è divertentissimo Vabbè ma se è così facile Eh no Sticarsi Qui con qualche renato In due Ah 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 No E mo Er viola deve fare qualcosa E mo deve andare sulla sinistra Chi è che ha fatto sta Abbiamo un secondo Che deficiente Che deficiente Bene sono pronto per sopportare la scalata Bene sono pronto per sopportare la scalata Pronto C'era la chiave Qualcuno doveva già scendere Era l'unica Non è vero Mi dissocio da questo Scusate Oh È bella Quella mi è piaciuta Quella mi è piaciuta Qualcuno Qualcuno lo dica però Qui il verde ha cariato Io l'ho visto Mamma mia Ho visto cariare dal verde Almeno 12 Di Di Non so perché Non mi sento di doverci saltire Ah Eh No Un altro Ok Il viola Ah no Cazzo Sì È qualcuno però I gialli grigi qua Sì È però così A rendersi così Senza aver capito Andiamo avanti almeno Vedere cosa mi viene Vedo il grigio e il giallo Un po' Titubanti Non so perché Ma non li vedo Per la qua Allora io vado qui Primo Ok La gialla va da sopra Il grigio uguale Il grigio ci metterà Eh cazzo Ma il grigio adesso Deve andare indietro Spostare il tutto Ah Sì No ce la fa Sta aumentando i secondi Che bravo Sta aumentando i secondi È un bacco di culo qua Qua è un po' di No No Lì è una cattiveria Chiunque ha messo il masso così Ho visto qualcuno Che stava sabotando World Record Ah World Clear Ho letto World Record Ragazzi Mi ero un attimo Emozionato Che cazzo è Ah Io il farà Ah Ok Mirzav Mi è andato tu Mirzav Mirzav Vai io sopra Mirzav c'era davanti Vai Mirzav Vedi No Ahia C'aveva ragione Adesso io Adesso io Adesso io Eh ma lei deve stare Sopra di tutti Ok allineare Bene No e lei va avanti Eh Moriremo Ok No ma andiamo Che sta Che Non c'è Questa da lollo Non me l'aspettavo No lo sta un po' Sabotando Lo vedo Lo vedo per la quale Sì però Qualcuno decida Di prendere quella chiave Ma guarda Madonna Qualcuno stava Sabotando Non so chi Ma Chiamati Jimmy Jimmy Oddio Che cazzo Sta succedendo Cioè ragazzi Aspetta È quello che Sì però Se qualcuno Muore Così Io vado Per ultimo Così a meno Perché mi sta Laggando Perché quando Vado qua Oddio Incredibile Cosa fa il potere Dell'amicizia Noo 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 Però Però C'è Siamo dei gamer Per favore Ci tratti con riguardo Ma noi possiamo andare anche indietro Qualcuno L'ha visto il mio orologio Non lo so E' incredibile E' incredibile E' lollo E' incredibile Il mod Non mi ha colpito Il mod C'è Veramente E' scriptato Eh sì Eh di nuovo Sabotato da Jess Ma sei stanco Lollo Lollo Sicuro che ce la fai ancora Mamma mia Eh vedo un po' di Oddio Oddio l'ho lisciato Oddio Ma c'è una certa bio velocità Ok Incredibile Porco Giuda No Jess m'ha ucciso Jess m'ha ucciso Jess m'ha ucciso Jess m'ha ucciso E' la prima volta che lo proviamo Dovrebbe essere sempre Allora Mi voglio zoncare Quello per casa Come sull'ho Ah 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 E' sull'ho Sta cosa La vedi Oddio Io non voglio Vedere nessuno Io voglio Sta dietro Da solo Bella Madonna Jess Madonna Jess Pericolosa Ok io sarò dietro Mamma mia E' incredibile che ci siamo riusciti E' incredibile Veramente Al primo colpo Cazzo Al primo Questo Eh per forza Troppo forti Sei com'è E' stato in Svizzera L'Ambria E' sicuro Per quello che sei andato a sbattere Ho visto un po' di là Ah oddio Dobbiamo fermarli allo stesso tempo Ragazzi però dovete stopparlo il tempo Allora C'è scritto che deve essere tra lo 0 e 1 minuto e 60 E 1 seconda e 60 E c'è la gente che prende il tasto quando manca il 3 secondi Cioè Io guardo Ho capito Vabbè rifacciamo Vabbè 5 e 6 Eh c'è Dobbiamo premere allo 0 tutti Pensavo che dovessimo essere Ah dobbiamo premere allo 0.1 Capito Bravo Io sono bravo Dobbiamo essere più precisi Stavo sbappando No vabbè Qualcuno è stato più preciso Il viola è stato molto preciso No cazzo Eh Ops Premete premete Va resettato Ma scusa chi è che ha sbagliato prima Io No È stata la somma sbagliata Deve essere 0 punto 0.01 So fortissimo So fortissimo ragazzi Dovete finirla No però qualcuno Com'è che qualcuno l'ha fermata a 7 secondi Io ho 25 No 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 Io non capisco No scusa C'è Lollo che sta a faugnorri Guarda che mi spinge Guardalo che bastardo Ah tu sorella Oddio è incredibile È incredibile cosa può fare la matematica Eh vabbè Però io 0.01 Prima Un quarto d'ora per capire il comportamento No Quello l'avevamo già capito Veramente Il problema è stata la gente che Non riesce Questo è meno Quindi sono più piccolo Tu sei un folle Ah qua passo io ragazzi Se io divento più piccolo è un casino però Voglio diventare più grosso E qua mi serve più grosso Quindi voglio diventare più grosso Io sono più piccolo Può essere piccolo io Sì però così sei troppo grosso Sei un deficiente Allora Godzilla Ah basta Lollo Oh oddio Eh no mo sei troppo grande Deve esserci quello piccolino Sono io No Non devi diventare la gialla Ciao No è giusto Ma non è Ma basta che va a succedere Ma dove è solo salire Jess Lì E quello piccolino Vi giuro vi giuro No Ma poteva già salire lì Ah oddio no Perché non ci credo Sei troppo grande Eh però potevi dirlo Che sei troppo grande Cos'ha fatto con il viola Maledetto Ma non ci sa Non ci sa Ok E mo? Adesso? Eh dovete essere Ah no aspetta Ma io posso Ah ma perché io posso diventare grosso Allora io devo avere queste Io devo rimanere piccolo Capito? E poi diventare grosso Quando voglio Così porto tutti Tutti i mini Eppure io devo essere mini Sì ragazzi Però un attimo Basta Tutti i mini Giusto? Salite Esatto Salite a torre Eh fra Quando uno si fa D'esteroidi E' quello E la chiave L'avete lasciata a me? Non ci voglio credere Ah incredibile Cioè ragazzi La chiave Non riesce Fra Vorrei Cliccarla La porta Non me la fa fare Sai com'è All'altezza Di tuo Io Non ce la posso Fa Qua c'è stato il colpo Però Il colpo di geni Cerchiamo No Che sta succedendo Oddio Che vuol dire Che vuol dire? Offline Nolli Push or jump Push or jump Ah Oddio Grigio? Eh però grigio bastava dirlo Qua c'è Ah E questo lo porti lì Certo Ma non è vero Il grigio non doveva andare Esatto No è leggermente più piccolo Che culo E il grigio deve venire qua Il grigio serve È giallo Eh no Il grigio doveva tornare indietro Che devo fare Che bella porta e basta Che bella porta e basta E ora? L'abbiamo persa L'abbiamo persa No Guarda Vi mando su così C'era quasi ragazzi Scusami Oh Genio! Mirza mi prenderà il mio posto Mirza vieni da tutta questa parte E vai al posto di GES Fatto? No Non l'hai fatto Ok Ok Adesso l'hai pazzo No Mi sono pazzo Non mi sono pazzo Jess, devi saltare Vedi questa cosa? Ok, ok, ok Scusate ho dovuto intervenire Stanno cadendo le palle Oh scusami Non mi sono pazzo Torso? No, ok Usa la prima parte Torso? No No Ok Ok No Ok Non ci sono pazzo Ok 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 Sposta Ok 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 Adesso Ok Ok E io invece Adesso Adesso Basta Eh, ma è un tocco di glass, è un tocco di glass. Eh, ma perché poi loro devono spostare i massi e devo portarlo sopra? Eh, certo, solo il giallo. Oddio. Sì. Guarda che brava. Fermo. Perché devo prendere anche il piccolino. Eh, devi venire. È uguale, può già andare e lo posso già mettere. Suona strano come... Io non mi fido di Mirza, meglio se sto io dietro. Ferma, hai ragione, vada, vada, ferma, ferma, ma qua devono carriere grandi, è normale, noi possiamo andare. Ma io ho la chiave, devo aprire la porta sopra. Adesso io non devo andare contro il muro, il mio giallo deve restare più lontano. Mi sta mettendo paura tutta questa cosa, mi mette pressione. Eh beh, ma che so scemo. No. Non voglio vedere dove arrivano, no. Tu devi andare un po' più avanti. Eh, sì. Adesso vado. Comunque troppa potenza. Eh, troppa forza. Troppa forza, è normale. Io sono già scappato. Mamma mia. Eh, ma qua ho visto, ho sudato freddo, eh. Sudato freddo. L'ho vista quasi impossibile questa, eh. Devo dire che erano tre quadratini solo di andrea. Notevole, notevole. Eh, io avevo già capito tutto lì, eh. Ehm. Dobbiamo stare tutti insieme. Siamo morti. Ah, ma c'è un timing, ragazzi. La cosa va, va... La cosa va col tempo, capito? Non è infinito. La schermata si muove. Sì, l'avevo capito. Siamo morti, però. Guarda, le bastardi! Sì, ma qualcuno lo aiuti, però. Sì, però mi eravamo. Eh, ho capito. A due a due. A due a due. Eh sì, a due a due, ragazzi. Ah sì, anche. Eh sì. E poi mi muovo io, non il grigio. Ma porco. No, vabbè, però, così lo fate apposta. Così io vado apposta. Facciamo... Eh, vabbè. Ma, ragazzi. Ma, ma basta che andate tutti su uno. Esatto. E quell'uno si muove, vaffanculo. Guarda, vi metto dritti, eh. L'ho usato meglio di un... Oddio. L'ho vista pericolosa. No, no, no. C'è un skill issue. Questo è... Questo era parkour coming. Fatemi salire. Ma la smetti! Dio, ci sta ammazzando tutto. Vai Lolo! Vai Lolo! Vai Lolo! Vai Lolo! No, più casino, più casino. Oh, merda. Ma dobbiamo saltare senza spingere. Il grigio deve andare giù, porco giù. Eh, ma non riesco. Non spingere. Non spingere. Non spingere. Però, ragazzi. Chi è che ha spinto così tanto? Se diamo la colpa... Diamo la colpa... Diamo la colpa... Diamo la colpa di Rihanna. Che ha visto il colore... Ha detto... Ah, cazzo del colore... Ah, ha detto... 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 Doveva già stare tutti sopra, è solo il grigio che deve stare Grigio attento, fermi, si fermi grigio Grigio tutto nelle sue mani, più o meno Diciamo più nelle sue zampe Ah ma era già finita Cioè ragazzi ma bastava, ma cioè era semplice Che ci voleva? Eh io l'ho detto E io do la colpa al grigio Che cazzo di sapevo che c'era il muro là La colpa era mia all'inizio Attenzione Ah questa è 2-2 E mo? Scusatemi Come funziona sta cosa? Qualcuno mi deduce Oh che figata Eh ma grigio però si deve svegliare Eh no Perché grigio non so No è il grigio che pure deve venire Sennò col cacchio No non lo vedevo Non lo vedevo per la quale No però vedi Prima non salta Mo salta troppo Vai Come mai finisce sempre così? Ma perché finisce sempre così? Ma è perché è il viola che si deve spostare Che cazzo? Il signor viola per favore Mamma mia Non so come è successo Ah e dobbiamo saltare tutti di là Incredibile State fermi zio porcello Eh sì però Questa è cattiveria però Non io Allora fermi Saliamo come si Aspettate che salga Madonna santa Vai Madonna Sì però qua collaborazione Sì però Perché il giallo mi sta Ma il grigio Il grigio può andare Ma Non lo vedo per la quale il grigio Mi ha tirato i piedi in testa Lollo Lollo vuole spostarmi Mi vuole buttare giù Lollo Oddio Prego No Ma vedi che era semplice Ero l'ultimo se è riuscito Ah non dobbiamo perdere la chiave ragazzi Eh Grazie Vabbè rimarrò sempre io quello vivo tranquilli Il giallo morirà No però No però ho visto No Io l'ho visto Ho buttato giù E io l'ho visto Siamo pronti Però il grigio sta sempre dietro Non capisco Vabbè Eh non ce la farete mai no Se il grigio insiste a stare un po' dietro E non in bilico Eh Enrica ok Enrica Mamma mia Eh quella l'ho già vista Enrica Secondo me è meglio stare così Era andata meglio Come ha fatto la gialla che era più dietro del grigio Eh ma il grigio è troppo forte Ma che cazzo Oh è incredibile Ragazzi Ero uscito via Ragazzi ho vinto Ma non salta Ma perché Oddio Ascoltami Ascoltami Tutti tranne grigio Premo Non tengono premuto destra Che Quando grigio parte Non saltiamo Regalito Io sono ancora Cercando No Se tieni premuto destra Finisci giù Mi sape Piano attacco Dio Via Ma non serve Ma salti sul già Ascoltami È una questione di skill Quindi il grigio Prima di tutti Però Ragazzi sto volando Ragazzi sto volando Oddio Oh no Stavo volando Perché ti puoi mettere davanti Porco giro Sto senti male Ok Oh È incredibile È incredibile Eh ma quando uno è forte È forte Mi sta sudando Le palle Oddio Che è sta cosa Non Madonna C'è proprio scritto Ma c'è scritto Capisco che c'è scritto Non pushare le pusha Ma Eh però due volte di fila Eh mo diamo la colpa Mo diamo la colpa Non ce l'ha No Ho visto un sabooting In atto Oddio L'ho visto pericoloso No No ragazzi No Avevo camminato più avanti Avevo camminato più avanti Io l'avevo visto Eh ma è sempre grigio che non tira Ma è un po' aspettare signor grigio Sì sì devo aspettare ho capito Quelli davanti ti fanno blocco Ah io ho saltato però Io ho saltato No allora Un attimino Ah e questo Sa perché Perché ho voluto imparare dai migliori È per questo Ormai ho già imparato troppo Mo voglio godermi la scena E' una coincidenza Io non credo proprio E' quel non push Che ci mette in difficoltanza Eh sì Eh sì 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 Va beh la testa di Andrea Mi ha risbattuta indietro Eh mo No Non facciamo un po' di shaming Per favore Madonna lollo Ok No io l'ho visto Due volte l'ho visto preso Una l'ha preso Ma sai perché Oddio Eh questo è quello che mi ha fatto lollo Hai visto Madonna Eccolo No Incredibile No Non è possibile Stati Stati Andre Stati Ah Dove cazzo vai Mirza Ah 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 Oddio E' stato Ah Ah E' stato Esilarante Ce la possiamo Vai Comunque era più Era breve il percorso No ragazzi ho camminato in avanti Qualcuno l'ha visto Sono tornato indietro nel tempo Ti giuro no E' più difficile di quello che sembra Vero Mirza vai Sarò io l'ultimo Dove Ah Almeno non è colpa mia Questo si fa tutti più felici Tutti Eh no ragazzi Ho lagato Ho lagato C'è stato proprio un frame rate O no prima di schiacciarlo Verde pacchetti Ande Sì Ho visto una transizione illegittima Eh vedi questo Eh il classico Vado Vado alla posta E prendo Il Biglietto Oh Il primo livello Ormai è una stranzata Meglio di Cosa Com'è che si chiamava quel gioco Mamma mia No però Eh ormai L'avevo saltato L'avevo saltato Mi è tornato indietro Io lo so il perché Oh comunque Mirza non sta più morendo Eh ho capito che devo saltare Ma è perché moriamo prima noi davanti Vero Fallo andare in avanti Lollo grandissimo Anche Lollo non moriva da un po' Eh bravo Fate andare davanti Mirza Fate andare Piano Allora Vai Mirza Vai Lollo Vado io Ok Ok Piano Eh no Non ero io E' stato Lollo No perché Cosa Ero a 25 metri No ma andiamo Spingiamo Addio Andiamo Spingiamo Sappiamo come va a finire Eh sì Eh però Allora No Allora No Io non ero sceso C'era il silenzio della perfezione Eh no perché C'è stava ridendo ancora da prima Quattro deficienti Eh Meno male che sono quattro Quindi hai compreso anche Lollo Incredibile Vai Lollo Sei uno di noi Eh io lo Cosa Eh qua Non lo so Ma sì Io Ho visto il giallo Ho visto il giallo Madonna Io ho paura Voi dico Perché noi siamo troppo attaccati Quando saltiamo Tipo Quindi in realtà lo prendi Devo saltare molto prima Non è vero Eh sì Vedi Ma hai saltato troppo presto È vero Mirzab Qua Non so 3 euro spesi Bene Si è anche approvato a saltare Mi sono sorrendato da su Oddio Ragazzi con questa canzoncina È lo stesso Lo stesso movimento Penso che sta andando In coma Profondo Oddio Madonna No però Jess Lei mi mette paura Io non mi muovo più Ve lo dico No è giusto Quello che sta a fare Lei può già andare a aprire la porta Ok No così fai ammazzare il grigio Oddio Lo sapevo Mi sei rimasto sopra la capoccia Ma Secondo me ormai siamo esperti A morire Questo l'avremmo rifatto Sì e no 96 volte Beh perché È il livello più hard Questo secondo me Lo vedo Lo vedo complicato Hai visto che avevo saltato Sì 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 Ho visto Hai camminato nell'aria Come una libellula Ho visto Eh ormai qua È speedrun Ormai la facciamo in speedrun Questa Cazzo siamo schiellati qua Dove Perché È morto a forza dei cuori Eh vedi Ma sai di chi è la colpa È Lollo mette pressione Lo dico io Sì guarda Lui parte Salta via tutti Parta Ti fa capire che sei nulla Perché tu stai ancora dietro Oddio L'ho visto Ma perché non mi fai saltare In pace Lollo È la non cooperazione Questa No vabbè No Madonna Guardalo un altro Eh mo Mo non dice Ma stavolta La telecamera Non c'entra Ma un cazzo È una passiva Stava facendo per ultimo È tornato indietro Per morire È incredibile Esatto Eh lui non voleva Ah Ma va a vedere che dovevamo invertire gli ordini Non c'è vostro segreto No però Volevo aver trovato la risposta Io ero convinto di aver trovato la risposta segreta Oddio È vero se vai per primo Rischi di morire Io non vado Oddio È vero se vai per secondo Terzo Umo E lollo Sicuramente Sicuramente Quasi quanto la lag di Mirza prima L'ha portata indietro nel tempo No ragazzi ero avanti E non ero sul pulsante Non ero sul pulsante Non è possibile Quando lo dico io No Dai scusi Scusi Qua serve la mano d'opera al cervello Comunque Ah mettiamola così Se uno era da Io avevo saltato È l'unica Dobbiamo fare un minuto di silenzio Vai È vero così Non funziona Ci concentriamo per davvero Stavolta Vai Siamo partiti ragazzi Ma che vorrei Eh la vedo un po' tardi È ora di dormire Avevo toccato il movimento No è giusto Uno alla volta È giusto Eh sì Sì stai sbagliando Normale Ok Concentrazione No allora Io Non l'ho toccato No Io C'ho il VOD Che non l'ho toccato Ce l'ho il VOD È programmato male Il VOD È programmato male Ma porca Di quella puttana Fatemi andare avanti Che non ho le pressioni dietro Perché è divertente Ce l'hai avuta E per sé perché Hai sentito di essere da sola davanti Oddio Lollo Qua Qua la Molto Madonna Santa Lollo vuole Farsi impazzire Ok Eh Lo vedo un po' Birchino Oh Vai Vattene Me ne vado pure io Me ne vado pure io Sali prima su Lollo E vai Incredibile Ragazzi ho visto Lollo 100 Ho flashato Lollo Ho flashato Lollo Che l'ho toccava Eh Geometry Dash Ecco che Come cazzo Si chiamava Bravo No no Non rifacciamo Il livello Per favore Ma come funziona Qua Bene Ok Cos'è Move and stop Ragazzi Questo è il fantasmino Di Di Pacman Non dobbiamo svegliarlo No Si sveglia da solo Eh Io ho visto Non ho capito Però C'è Un prevedito Siamo i due fessi Comunque Io non sto giocando Un secondo Eh Non importa Non cambia risultato Comunque Nel dubbio Ma lo puoi schivare Nel dubbio Devemos saltarlo via Stiamo fermi Un secondo Dorme Dorme Ci ha presi tutti Come si così Incredibile Oh mio dio E che ne so Ho visto un salto Pericoloso Ah Quindi quando si sveglia Dobbiamo star fermi Eh si eh Qualcosa mi dice Che è proprio così Piano Piano Adesso Adesso Che su Vai Madonna Ah È cattivo È cattivello Un po' stronzo No ragazzi Non ho io la chiave Perché la chiave è passata lì No 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 Oh 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 ma ero mosso in realtà testa di cana non te ne sei neanche accorto volevi sì però ragazzi è ma quello rimane attivo quello rimane attivo ma è scemo lollo ma è in z ma è scemo no qualcuno gli lo dica però non sono io non ho stato io sì però vedi no lo so per fare siete pedine sacrificabili vai oddio è però un attimino ma perché ma loro ha rotto il cazzo questa cosa perché noi si bug e fa vedere che è sempre incazzato vabbè io vi saluto dall'altra parte che carini madonna santa ed è pure incazzato che ci siamo andati vedi è normale è normale chi non le vorrebbe persone come noi una tensione palpabile ma quei colori qualcuno me lo spiega con i colori sopra non l'ho capita non devi toccarlo da parte c'è dobbiamo stare fermi dopo che lo facciamo a quando capito è anche a me blu e marrone ho capito e mo deve diventare blu si lascia quasi ragazzi acqua è pericoloso io non vado sul cazzo che vado se mi muovo si muoiono tutti oddio è andata sulla persona giusta e da qui dobbiamo stare attenti no un attimo se si spinge lo stesso oddio che ansia no però è voi due sai che non sapevo se potesse morire da qualcosa grazie a te ora lo so due volte madonna l'ho vista rischiosa da parte del grigio ho visto il grigio un po' di... ah si può pingà bravo anch'io sto pingando no però non pinghiamo così a buffo ci dobbiamo stare fermi appena usciamo non muovetevi è incredibile no go tu sorella chi è che ha detto go chi ha detto go se lo rimane jump chi ha detto jump se lo rimane no no ha detto te proprio no fermi mio dio sto livello è solo una partita di tempo sto livello spinge andre scusate mi ero emozionato fermi 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 cazzera era lì era fatta è complicato a volte non sempre le tasche è quello il problema meno meglio lì che d'altre parti però pensaci è ma dipende a caspe io me ne vado vaffanculo non l'ho capito io ho paura cioè ragazzi perché solo alcuni ragazzi si può andare solo a sinistra a solo a qualcuno ha ragione lei uno deve guardare fantasma gli altri non sapevo sta cosa è uno dei bravi adesso sto di là voi andate di là oddio ma fate paura divertente tu puoi camminare vedi era più semplice del previsto e mo qualcuno ma spiega per favore che sta succedendo ma io ho paura cosa sta succedendo il fantasma non si stava muovendo oddio ho visto la morte lollo continua a guardare a sinistra venite su di me che io lo tengo fermo salta lollo salite su di me ma basta dirlo bastava dirlo ma era una stronzata infatti era così tutti su uno e vaffanculo e non capisco perché lollo me le rende complicate adesso noi dobbiamo guardare a destra ragazzi ci prende il coso e ci ammazza il cosetto dovete saltare io guardo il fantasma è il cazzo è da prima che dico qual è il problema tenevo io il coso e vaffanculo eh vaffanculo fantasma ok io col cazzo che vado su quel coso faccio io quando l'ho girato il cazzo comunque faccio io il girato è il top ahahahahahahah un coso ahahahahah ahahah eh si quando uno è forte è forte parlo per il fantasma ma perché cazzo devi venire qua e vaffanculo le fai troppe complicate ragazzi dovete girare tutto a destra oh eh però lì lì potete saltare però lì guardate salta cosa c'entro io? stai occupando spazio per me ah ma dopo lo son saltata ahahah tutti su di me per favore eh tutti su di me tutti su di me tutti su di me eh devi stare fermo è semplice eh madonna la fai difficile tutti a destra eh boom volevi volevi via eh via lo guardo lo guardo lo guardo e lollo ok lo guardo lo guardo siamo salvi salitevi sopra qua ah è vero ha ragione no però ha ragione e mo oh dai oh ragazzi quasi.. oh ahahahah ah ragazzi che l'ho rimane lì? Oddio fermi, fermi, che se la pianta esce c'è male Lo stiamo guardando, lo stiamo guardando intensamente Oddio c'ho un mal di testa Vai, anche Mirza, anche Mirza Vai madonna Madonna santa è vinta Fermati Andate Eh non è vero, vai Vai Jess, vai Jess Qualcuno lo guardi, qualcuno lo guardi Intensamente, più intenso Più intenso Qualcuno ci muoriamo se c'è Deve venire un po' a destra da noi Ah ha ragione Ok guarda il fantasma io Vai Ah no guardiamo qua Eeeh Dove? Ma? Ah c'è il presa lui la chiave Ah fa la merda No basta che prende lui la chiave da sotto Qualcuno deve prendere la chiave da sotto Eh ma fermi un po' Madonna santa Qualcuno lo guardi Qualcuno lo guardi Grazie Jess È nostro Grazie Mirza Sei un salvatore T'ho visto Ma ragazzi c'è sto Oh c'è la vita Ragazzi c'è la vita Ma c'era una batteria C'è una batteria sopra No Più camminiamo Più si spreca Ah tutti ci sono Ah Eh Eh Lollo se non mi fai saltare Seconda No era Lollo che avevo viola addosso Andre è partito di 14 No esatto Non so che non so Non laggare Ho visto laggare Piano Ah non possiamo usare tutta l'energy Ma uno deve andare fino in fondo Eh ma Lollo ci muore Eh ma Lollo ci muore No Dio porco Scusate Mi dissocio Che è qui Che è qui Che è qui Che è qui Quello si è fatta una triple Oddio me l'ho vista morta Buona Buona Sì non l'ho vista benissimo Bene ma non bene Stare uno sopra l'altro è morta e certa Ok Ah ecco Ok Ah due per volta Madonna No Fermi Fermi Togli un botto di energia quella roba Fermi per favore Per favore Lollo No Madonna Puzzola No Non so chi spinge Ma lo sto odiando Ragazzi Qualcuno deve prendere la chiave No no La prendiamo comunque Vai Ah Ma deve andare qua sotto Siamo sicuri Eh sì Quando una cosa è così è così Madonna santa E adesso vi Vi spacco Vi spacco Le scarpe Vi giuro Dai niente Manca l'ultimo Per favore apra la chiave Apre la pa- Madonna santa Eh Jess 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 Lei ci entra Fidati Madonna santa E anche questo è andato con una semplicità Mamma mia Liscio come l'acqua Mamma mia Meno male che era acqua frizzante Meno male Barra spaziatrice Sì però levati da Mirza Porca puttana Madonna Io vado di qua Io vado di qua Io vado Spazio Non si può più si pimpis Come? Io sul grigio No porca miseria Vai lì Guardi va al centro Eh ho capito Ma il pezzo Faceva schifo No però non è giusto Ma sembra che lui ha fatto Oh Ma è tornato indietro nel tempo Mi dica Oh Pardon Pardon No 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 Qualcuno lo dica Non è vero Non è vero Io non so minimamente di cosa parliamo Voglio il mio posto Per favore Guarda che mi rubano Maledetti Eh no però scusa Dovevo mettermi lì Poi mi ha fatto Porca Oh porca Giuda Porca No Dai no però Eh no Questa è cattiveria Ragazzi Ce la possiamo fare Madonna Madonna Quanto siamo forti Questa Questa era quasi da challenge Madonna Carina questa È carina Eh stavo piangendo Sentite come tiro di no No veramente Questa si giocavo di brutto Bellissimo Sì però qualcuno lo dica Che mi sta sabotando Cioè da me non arriva un cazzo Guarda che bello quello che si è incastrato Lolo lascivi fare le palline No Guarda No qua Il viola è una merda Guarda il viola Guardalo Stardo Non dovete saltare Se non saltiamo È più facile Non lo possiamo sapere Guardalo Guardalo Eh va bene Piramidi Ho visto una cosa brutta Bravi Entriamo tutti Vai Ho visto che qualcuno voleva giocare ancora da solo Era un giallo Questa era più facile Quello di prima Comunque Cazzo Quello dei tasti Don't push No Ragazzi Sono dieci Vabbè Vero No No Ma state dalla vostra parte No No Però qualcuno mi ruba Ma mi ruba i posti Qualcuno Il viola Il viola Bastardo viola Vaffanculo Guardalo Insiste ancora Sei un testa di Non mi far parlare Per favore Madonna Madonna Santa Ma questo è andato meglio Di quello di prima Ormai siamo esperti No No Perchè giuda Sì però Per favore Madonna Santa No Chi è che mi fa A queste cose Oh mio dio No 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 Ragazzi No No Ognuno deve stare nel suo E cercare di Guarda il viola Che figlio di Madonna Madonna Santa È vero però Ognuno fa il Eh Vabbè ma questo Si era già capito Prima però Ma allora è più Semplice Vedi Comunque Stare vicino a lollo E No 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 Mi ha sabotato Ragazzi Nessuno l'ha visto Mi ha sabotato Ma non è giusta Sta cosa Ma guarda Lasciami quello O lo dici a qualcun altro No Madonna Di quella Puzzola Madonna Santa Guarda questo Che bastardo Guarda che cazzo Mi tocca combinarlo No No Chi è che ha sabotato Quella Qualcuno Dia la colpa a qualcuno Qualcuno Dia la colpa a qualcuno Ma non è giusto A me qualcuno Mi sabota all'inizio E poi la colpa è mia Ma com'è che finisce così Fa un po' il bastardo Guardalo eh Ma tra un po' Vedi l'invasione Guarda Hai capito Airverde Airverde Guardalo E mo La donna di quella Mamma mia Mamma mia Troppo forti Si però Sta andando troppo veloce No ecco Tranquillo tranquillo Sistemo E di cosa ti fai qua Madonna santa Oddio Troppo facile Troppo facile Quindi il quarto livello È sta cosa Tipo 20 cose Ma secondo me Dovevano già inventare In gioco solo di sta roba Comunque divertentissima Ma c'è il livello Infinito Dove scegli quale È divertente Oddio Oddio ragazzi Oh l'ho bloccata Che cazzo Eh sì Non ce la fa Il viola non ce la fa Eh l'abbiamo aperta Ragazzi ci sono i potenziamenti Ci sono i potenziamenti Madonna quella ballina Salvatele tutte Ma una E se n'è andata Una mia impressione Madonna il grigio Grande il grigio Lo chiamano Gandalf Eh lo chiamavano Gandalf Guarda loro No Ma sui fuori Oddio io sono il verde Oddio io sono il verde Oddio Oddio Basta che non salti Che cazzo è successo Ragazzi Allora Ma si potrà lanciare Una pallina Ma guarda Baby No però Potevi salvarla Quella Ah oddio Ecco No Se queste due si felicitano Siamo fottuti Lo sapete Eccolo No però No Io ho visto il giallo Spingermi Sì Sono stato letteralmente mosso Cioè proprio Comunque si è all'inizio Dritti ragazzi Ha ragione Fotele pure Sta fermi Ragazzi Ha ragione Sto fermo Guarda Easy No però Vedete il viola Perché mo ha perso la pallina La colpa è la mia La colpa è la mia Tu stai creando Sono Ma perché Se va di spiego Almeno va da Sopra Vedete Madonna Santa Guarda lì Guarda lì Ok Se va di spiego Che cazzo vuol dire Se va di spiego Oh Quella Oh Mamma mia Oh Tutte Tutte Ragazzi Ma quanto sono Tutta vostra Tutta vostra Basta che non ti muovi E va su Lollo Invece no Quella Fermi Fermi così ragazzi Non serve muoversi Non so Io Mirza Ve lo vedo Per il colore Adesso Chi vuole Darla di spiego Lo faccia Come no Guarda Io tengo La pallina Di riserva Eh ma questa Allora Eh questa Questa è un po' Lollo Un po' Lollo L'ho visto Questa l'ho tirata giù Io Ha fatto da sola Questa Questa ha fatto Oh è vero Siamo la barra più grande Se ci mettiamo insieme Ragionate Tutti in quella direzione Easy Ok Sulla destra Mamma mia No 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 Eh però Ah è vero Dovamo saltare insieme Qualcuno Non si vuole Eh Vuole renderla hard Mamma mia È troppo tenso È ovvio È ovvio Vedi Perché la mia È sempre dritta Siamo già Cominciando a perderla Finché sono lente Va bene No Ecco Abbiamo Due Verse No Ragazzi È ferma Quella è ferma Dovevo capire Dove volevo farla andare Io Non so più Guarda che squadra Lollo Tutti la mia Mamma mia Fortissimi Oddio 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 Guardate No Sì Ragazzi La porta La porta Ma entrate Porco Giuda Ma stiamo mati Porco Eh è proprio quello Quello è carino Con più persone Cosa cazzo è Dobbiamo saltare tutti insieme Tutti insieme Andrei Eh 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 Mo' è il giallo Vedi No Eh no Ma è sabotato Ma non posso cittare No Ragazzi Oh porco Di quel Ma hai fatto Mi sono fatto La diarrea addosso Tom Tom Alla fine abbiamo deciso il gioco Eh È quello dei gatti È il gioco dei gatti Grazie al cazzo Vieni in fondo Poi io non riesco a soldare Quindi Lollo mi è infettato Praticamente Praticamente Sì Vabbè Ho deciso Giocare A Bardos Ghetto Con me Giochi con Lollo E i gatti Eh È i gatti Lo sai È l'effetto dei gatti Ma perché Tom Mi sta distrando Ragazzi Ragazzi Non riesco Com'è che ha preso mai lo stesso Quella in fondo comunque non ha saltato No è diventata più veloce È diventata più veloce Oh È troppo facile però così Mamma mia Farmi era divertente Deve essere sincero È la stanza che deve Eh Lollo vuole ancora giocare Vedi Eh lo vedevo un po' Era proprio preso dalla palla di cannone Comunque Tom Ci hai messo tipo una vita e mezzo A fare quello che devi fare Ragazzi La persona che deve andare a lavorare domani Ha detto Stacchiamo Ha detto tipo Cinque ore fa E se andrei fino a far stare Si è ripresentato e quindi Ragazzi Meno vado a dormire già so Oh oh Buonanotte 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 No E fai prima No Guarda Se uno va qui Poi l'altro salta Quando serve Capito com'è Se i due stanno più esterni L'altro poi può controbilanciare No no Togliti Togliti Jess Eh lì dovranno solo stare Tutte e due Qua tutte e due Io Io e te Jess Eh noi due siamo troppo bravi Jess togliti Togliti Tutte e due loro De una forma Capite com'è Io Jess No io e Andre Siamo qua E siamo bravi Basta basta Togliamoci Togliamo Grazie E io sono già pronto alla porta Sono già pronto alla porta Cioè aspetta che Ma era giusto Eh ma non rotola Per andare un po' più veloce Cioè che davvero Eh no Dovamo andare prima Non smetti di lamentarti tu No lì dovevamo andare Sì A prendere le pesche E andare Basta Alla Ok Giusto Perfetto Pronto È reattivo Lolo Mi sa che devo andare al massimo Mi sa che devo venire pure io No no Oh Corpa mia Ma siamo saltati noi in fretta Bello Vai E ora No ancora Sono fortissimo Avete visto come ho aperto la porta Ragazzi È stato un istante Cioè proprio ero lì Aperta Quindi Leggermente Eh no Eh queste cadono tutte No ragazzi Noi dobbiamo andare avanti Noi dobbiamo andare avanti Ma rimbalza Sì Perché noi dobbiamo andare avanti Eh andiamo avanti Non rimbalzano Vedi Per terra non devono toccare È quello che sta dicendo Eh capito Andre Capito eh L'unica che è passata lì Andre Guarda Sì però Lasciala Dove è andata Occhio Anche quelle per terra però No ragazzi Resettiamo Ce n'è una Cioè Resettiamo Ma niente Noi siamo duri Eh sì Duri e non immortali Di vecchiaia però Oddio Ho già la chiave ragazzi Andiamo È finita Ragazzi Dobbiamo resettare Vai No l'hai capito Lui ha fatto un posto Per farci perdere No 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 Non diciamo Guarda il viola Guarda il viola Oh io sto dietro Cioè ragazzi Ve lamentate che sto avanti Dietro Decidetevi Sì No No Ah ma c'era la chiave lì già Avevamo già finita Dobbiamo finire il livello Dobbiamo finire il livello Prima Beh Beh Fermi tutti Guarda Bestia Per farci perdere il livello E' un'altra chiave E' un'altra chiave E' un'altra chiave No ragazzi No ragazzi il muro Il muro Ma fa muro Non c'è portiere Bravo Allora io non c'entro un cazzo Qui lollo Ma cosa Che le punti verso il basso Mi sono persi Ma mia due Ne ho salvate Due No porco Ma ha lagato Sta lagando Ragazzi sta lagando Ecco portatele piano piano E' un piano in avanti No però Dai Vanno apposta Ma porco Oddio Saremo un muro Invalicabile La semplicità Con cui è caduta E' stata disarmante Quello che è successo E' imbarazzante No però Un po' Tutte le sto Le sto perdendo Tra Mirzo e Gesso Tra Mirzo e Gesso Non so chi ne perde di più Oh porco Eh questa è tosta Ho visto la mia fine di prima No Eh porco Eh vabbè Ecco No ragazzi c'è stato un bug C'è stato un bug C'è stato un bug No c'è stato un bug C'è stato un bug Vorrei Lasciare Le prime Beh No eh Va bene Lo faccio in casa Guarda No ho capito Cosa volevate fare Alla fine Scusate Me lo sentivo Che quella andava Che io E lo fanno No Questa è cattiveria No No Io ero tutto a destra Torreggiamo 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 Un cazzo Vai Torna Torna Eh ma solo che Quando poi le mandate a destra Non le seguite Eh no Intanto a destra Poi cadono E Viscano Oh Oh Bello Pazzo No Dai Sono scena Della Eccola 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 Qua Oddio Oddio Però Ma L'abbiamo vista L'abbiamo vista Ma in che senso? Bene, le stiamo per perdere tutte, è incredibile Ora ci ritroviamo che non possiamo saltare sopra Non possiamo no, è quello che non capiscono No, no, la stavo per rompere, no, doveva rompere quella blu lì Oh, ora puoi passare Vedi, sono stato io quella No, era un passaggio a Mirza Era un passaggio a Mirza Bello, bello, bello Sì Ma allora Abbiamo delle palline Sì, dove va? Oh, è incredibile Ok, ho visto la morte Ho visto la morte Bello, bello Sì, io non vedo un cazzo Prendi, prendi Ma io non vedo Oh mio dio Mamma mia Oddio Serve che palleggi un po' meno Destra e sinistra No, oddio Oh, porca È successo qualcosa? No Sì E così è un po' glitchy però Bravo Bravo Stavo andando Bella Comunque c'è stato un glitchy C'è stato un glitchy qua L'avete visto? Il bug? Sì Ragazzi il cannone Eh, qua io lo so Sì però ragazzi Collaborazione Cioè io ve la devo portare ragazzi No Io la devo portare Eh, ci dobbiamo dividere in spazi più lunghi Ve lo dico Io la devo portare Ma col salto Col salto No Ah Eh, però la riuscivo a portare anche qua Eh, vedi? No, no Eh, no Dopo si rompe Ha fatto da solo? Si è falleggiato da solo Eh, tutto quello eh Sì, ce la possiamo fare Tra sei tentativi È incredibile È il mio lavoro No, no Vuole fare il doppio salto Non ci bastano spazi Tanto non ne basta una per rompere Quindi Allora aspetta Ah Deve per forza saltare No Carino, carino Madonna santa Eh, Mirzav lo vedeva un po' fermo Perché secondo me è meglio che Mirzav sia al mio posto Non so, lo vedo un po' Maia bella cosa Lo vedo un po' passivo Per quello Oh, no Perché non la rompere? No No Ah, addirittura Ma non credo Ma voi sperate no? Ma lasciami il padre Lollo Ah, se fate in due è easy Ma potete stare anche una sopra l'altra Quello che ho visto Brava Eh Non serve, non serve Oh, bello Eh, io riesco a farlo Cioè Non è Non santo Siamo Ah Ok, uno no e uno sì E uno sì Capito Secondo me lo può fare uno Ah, no Va troppo avanti Cosa cazzo è che stai combinando? Io, tigero, sto guardando intensamente Eh, forse Cioè Ho gli occhi ormai che mi bruciano Ma farlo normale come prima? L'ho fatto però, l'ho fatto Perché dobbiamo farlo in quattro, non in tre In tre è più complicato Bravo Ah, ho capito Bravo Non ci avevo pensato Ah, però è carina l'idea L'idea è proprio carina Eh, però non riesco a Guarda che è più easy Guarda, eh Uno Due Uno Due Ah, perché è stronzo il gioco? Perché? No Ma è stronzo il gioco? È stronzo il gioco? No Bella Bella Esatto Ah, cioè Io mi dissocio No, ma è possibile farla entrare No, però ha ragione Se la fai così è più easy Ha ragione lui Dovete tenere il mouse di dove cadrà la pallina Capito, Jess? È sempre diverso No, è sempre uguale Ha ragione lui Cioè ragazzi è stata una stronzata Troppo forte Ma devi passare il tizio Che la chiave Si è stato un livello di merda Ragazzi Cioè basta Questa, devo essere onesto Lollo ha avuto proprio È il tocco dei geni Non so sempre cosa vanno Si però Cioè no Una Cioè va bene se te lo dicono Se te lo dici da solo Un po' meno Che è? Che Non ci sono Non ci siamo più Io Mirzo Ma in che senso? Hai io Mirzo? Ma? Eh anch'io Sono loro come adesso Allora Io te lo devo premere Quando tu sei in aria Ok Vai Mi ha lagato Ma lagava come? Aspetta Fermo 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 Eh E mo? Ehi Ma questi sono Eh lo sapevo Vai Jess Ormai sei esperta di Mario Più Ah ma questo è l'insieme delle cose È un calcolo matematico ragazzi Con questo si è alta Ma ti giuro Non può salire Cioè Ah c'ha ragione Eh ormai no Vai Jess Ma no Ma poti Ah no Sei più grande di me Mirza Vieni Mirza non è vero Mirza Devi diventare più piccolo Arrivo Ok Vai Mirza Tutto tuo Ho voluto diventare più piccolo Sentivo l'importanza di quel tasto lì alla fine che era poca gente Comunque a chi serviva il tasto o meno alla fine Perché sei troppo grosso Io e Lollo Vada Ah io e Andrew insieme Ciao Ora È persa vai Oddio È troppo forti Io Non so perché la vedo male Sei pronta a saltare Alla morte Jess vai più avanti Scata di cadavere Jess tu cadi io ti cado Ah oddio Dov'è cosa devo fare io? Tu cammina solo giù Eh no Eh no Guarda Vai Vai più a destra di me No vai più a destra Ok sei pronta? Sì Mamma mia Incredibile Eh ma questo è vero lavoro di cooperazione Mamma mia Intendo le associazioni A delinquere Oh No però Eh ma qua vedo più bravura dall'altra coppia Se avete fatto Dovevo solo capire Che voleva stare su Ma no prova a saltare così e basta Ok Ah dobbiamo beccare i simboli Insieme li dovete beccare E ciò volà Uno sceglietelo Però stai lì Quindi vuol dire che lo guantappi Eh no vedi Eh prima Arriva un po' di vita Scusate 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 Eccomi qua La freccia verso l'alto Ah e poi ti devi fermare Ah hai capito? Sempre freccia in su Prima o poi la vecchia No Ho capito Io l'ho capita Parla è un altro Sta porca troia Ascolta Jesse Ti dirò la verità È triangolo freccia Dopo il triangolo C'è sempre la freccia Ma poi cambia eh Eh ma sono sempre uguali Non è il migliore Tu invece l'alto hai con cui ne attaci Ops Ok Troppo forti Vedi Chi abbiamo portati alla fine Mamma mia Eh ma quando la bravura è così alta C'è poco da dire Poco da fare Scusate No voi due No mi son perso che Ma io vedo tutto buio ragazzi È normale? Cioè deve essere tutto buio Ah io non vedo niente qua E che devo fare io? Perchè non lo scendorate un menù in secondo? Oh fermo Eh Jason Perchè? Eh? Salva Penso di non aver capito Che cazzo sta succedendo Cioè uno si deve ricordare Oddio No io non voglio più un livello del genere Oddio Non so cosa state combinando Ma GG No vabbè È nostra È nostra Jess Madonna Io ero con l'olio È qua E chi è questo? È Mirza Madonna Mirza La chiave Vai Saltami addosso E vai alla porta Tutto tuo Ah perchè doveva andare di là Pirla Ah Vabbè ma lo dice qualcun altro Io ci sto provando Ma si può salire solo Sjampando Sjampando Ah perchè devi esserci anche tu Ci sto provando Vedi? Sono ascensori Elevatori Ok Noi dobbiamo saltare qui sopra Che va di là Tutte e due Oh Chi è che mi aveva detto di no? Io lo sapevo Eh Perché è troppa luce Vedi? Per quello All dark Eh cambia tutto Cambia tutto No di nuovo no ragazzi Che cazzo sta succedendo? Quindi a sinistra si muore Ottimo Adesso Quindi sei morto Quindi sei morto Vieni No a voi chi? Oddio è vero Ci hanno swapati Sono riuscito a saltare il salto Vedo flashback a continuare Ok Ah ma che La provi adesso Alla sinistra Eh non so perchè ma mi da Di qua Ah Brava di là È quello che avevo detto anch'io Ah doveva spingere Ok Incredibile Meno ma Quando non è il nostro turno È sempre più bello Oddio Sì dovete riprendere l'ascensore Al contrario Oh madonna santa Mi sa che devi saltare sopra Ma che cazzo No però No Ho sbagliato Doveva Doveva andare qui Scusami Non ho capito Eh Guarda Eccola Non è vera Prova a saltare a destra Ah ma infatti Non è che deve andare qui Non è vera Ci stiamo impazzendo Ah Oh Oh Dove sei andata Come sei andata lì Come Eh ma sei saltata da qualche parte E ora E prova a saltare di nuovo A destra No lei salta perché Lì c'è un muro Quindi non vorrei che ci salta dall'altra parte Salta da sopra a destra Tu a vedere se lì No Questo è qua sicuro Ok E qua è così Per forza Questo è così Ora la domanda è Come ci si arriva dall'altra parte Ah forse uno sopra l'altro Deve saltare quello sopra Eh chi va Eh scusami Ma vecchio Ma che vuol dire No C'è un buco lì C'è un buco lì Ok Jesse Vieni qua Ok riproviamo È difficile ma non impossibile Beh lì Com'è che è sempre noi Che dobbiamo aiutare qua Ma Vedevo buio per un attimo Oh Qui potete camminare Ah sono rocce Capito E l'altra sta qua da me E io vado di qua Brava Basta Mamma mia Eh vabbè ma quando uno è troppo forte Quanto era stupido Com'è percorso Ah Oddio Ho io schietto Ho sbagliato qualcosa No però Ma non finiscono più Che Che succede Le cose al buio proprio No Con le pistole Finalmente Era giunto l'ora È giunto l'ora Ragazzi Come si spara Che vuol dire Qualcuno ha preso qualcosa Come hai fatto Con la Con la Perché Perché mi hai rubato la pistola Perché io ti ho rubata E ti posso sparare lì Capito Tua sorella Lui mi vuole sparare Io lo sento Eh lo sapevo Sono morto Grande Adesso dobbiamo farlo qua Con lui E come si fa E come fa uno Come fa uno A prenderlo Ma guarda se Lollo ce lo fa capire Grazie Ah ok Però lui sparava Viola Eh Ci siamo autosparati Ah ma io posso No Vabbè ma che vuol dire C'è presenza di Mirza Ah io non so come fa uno A sparare l'altro Ancora Ah qui dobbiamo saltare Ah qui dobbiamo saltare Basta Così E dobbiamo saltare in quattro Sparaggessi No E Mirza che non va abbastanza avanti E la chiave Chi ce l'ha Indovina Grazie Non so perché Non so Non so perché No way Noi ci dobbiamo sparare Noi ci dobbiamo sparare Infatti ma non ho capito come Liberatemi Sì adesso dovete liberarmi Dovevo essere in quattro Per questa cosa Ok Ah Dio Dio Sono troppo giovane Oddio Ok Spara addosso Lollo No è lui che mi deve sparare addosso No no tu 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 Ma io ancora Io ho solo Come cazzo mi lanci Io ho solo guardato comunque Ho solo guardato Vi dicevo io non ci ho capito un cazzo Sento ancora l'1.4 Sento un po' di dishing volare Oddio che cazzo è Pure io Pure io Come fate ad attivare Steca Quando uno si lancia Io Vedi Aspirami zio Andre lanciati che ti aspiro Però ti devi girare di schiena Bravo E adesso Vabbè lanciate Baby Spostati Dove Verso il basso A me fa ridere Sta cosa un bel po' Come fate ad attivare le cose Io non riesco Con la E Ma chi me lo dice Che si attiva con la E Vaffanculo Grazie Grazie Jess Veramente Se fosse per Lollo Da tutte le informazioni Tranne quelle utili Eh Non lo so Ah sì Mi devi tenere Io vado di là Lasciami Adesso io ti posso prendere Eeeh Lol Che pari Questa è una carina Un bel po' Questa è un po' particolare Tra il tetris Finora Allora Oddio Uno deve sparare L'altro Da lì Sopra Prego Ma Questa Non me l'aspettavo Forse ci serve Ah no Non posso chiusare Ehm No però In quel caso Uno doveva prendere Tutti quanti Era l'unica Guardate il cazzo Mi spara l'olto Guardate il cazzo Ah 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 Non lo ammazzo Ragazzi Non è che davvero Ma resettiamo E basta E una persona Te prende tutti Però Prima il mass Prima il mass Poi la persona Prende tutti Come fa una A prendere tutto Preso Lollo Ragazzi Come si fa Ah ecco Così Poi lui Prende me E tu Prendi lui Ah No Oddio Vai Lollo Eh Devi spara giusto Spara Spara Non ci credo E adesso Prendi lui Ah oddio Sì È vero Tipo così Ah aspetta Potevo Potevo rischiare Dove Dobbiamo fare un po' La scheletta Per lui Non ci credo Non ci credo Che culo Ragazzi Timing Ma 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 Non lo so Non lo so Ci devo pensare Nonsens Io so solo che devo farmi la docce Oh Sì però Che vuol dire Sì però Ho capito Vogliamo fare Ma scendi Mirza No In realtà È Lollo Che deve Ma no Era giusto Io vado su di lei Che vado su di te Eh Adesso tu puoi andare su di lui Che vai su Mirza Perché io vado di là Se magari Eh Devi spingere Quel coso Vai Spingilo Spingi quel masso in avanti No Lo devi spingere in avanti Spingilo Lascia No Troppo Ritiralo Capito Dovevi ritirarlo Io dovevo Allora Ma che Ah Può metterlo anche di qua E' quello che ho fatto io Senza morire però E funziona proprio così Vieni qua No Mi sento in trappola Ma cos'è Perché Che cosa E tutti Dobbiamo andare di là Abbiamo visto i rifrutti del lavoro Oh, no, no, no. basta che vè lì salti e ti prendiamo perché secondo il pulsante lì l'avete vista l'avete visto secondo me lì ci va la pietra lì ci va la pietra e poi uno e poi si torna indietro come che vuol dire che vuol dire come facciamo no tutti perché sennò la schermata non si muove grazie poi tu sali sopra esatto prende prende ora farò una cosa incredibile scusate volevo proprio provarla sta cosa non ci credo con quanta precisione chi è che è sceso quello che non andava fatto è stato il non pushare di prima che mi ha generato questo problema eh sì 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 sembra giusto no però ma lo fa apposta lo fa apposta volevo spettarmi un po' a destra non riuscivo su un lato io non sto premendo pulsanti eh si tengo a dire che non sto premendo pulsanti ormai siamo diventati esperti ormai c'è tutta è easy ormai così è così la vedo dura oddio siamo troppo forti eh però Mirzab non viene ma quella chiave di sotto no non è questo livello è più difficile che lo pensavo credibile eh lo sai è difficile eh lo sai è difficile è difficile non è colpa tua fino a qua funzioniamo bene oh tutto il resto che manca sappiamo già chi è che manca eh la mira qua guarda eh però il pulsante è stato premuto però io offro la mia testa così easy ah più da così non lo so non lo vedo convinto forse si è resettato eccolo no ma che si moriamo ma no ah ma si perché Mirzab deve ritornare eh vabbè ma lo sai com'è non è colpa di Mirzab lo sai eh però qua qua è la colpa la colpa vero vero è colpa della geometria eh l'ho sempre detto pure io oddio adesso ho capito ho capito perché Mirzab è caduto ero curioso perché ha saltato esatto e non non potevo immaginare una cosa del genere no vabbè vero però guarda vedremo che prefer ah niente abbiamo perso io non salto più ho deciso no vabbè ma quanta però no ragazzi degli imbecilli penso che tu abbia ragione oddio è stato è stato un momento omaggio è l'emozione è l'emozione crea queste cose ci rimango povero lollo rimaniamo rimaniamo tutti bellissimi vai madonna cosa stavo vedendo eh sì qualcuno lo prende quel lollo ragazzi un attimo un attimo dai che la parte difficile è stata fatta vai vai dai che la parte difficile è superata manco te trissera così vedi io tengo te che tu tieni me vai ora si può scappare madonna bagno velocissima stiamo perdendo stiamo perdendo il tempo record ho visto c'è gente che l'ha fatta in pochi secondi in più pochi secondi probabilmente anche un giorno in meno vabbè vabbè vado al cesso pure io nato no questo c'è last park lo sapevo che lo facevi non 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 Prova a scendere veloce Ah, certo. Ok. No, sto con me. Ecco. Proprio così. Ma ce l'avevo io lo scudo. Ce l'ho io? Scusa, baby. Lollo, devo saltare io? Ma lo vuole lui lo scudo per me. Sto cercando il seed giusto. Ma a me ne sono buoni questi. Un caramello dentro. No, stanno. Un mandorline. No, stanno. No, stanno. Oh. Oh. No, stanno. Cazzo. No, stanno. No, stanno. Oh. Oh. qui 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 portami fino là eh c'è andro ma qui ma qui qu'est ce qui 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 però quello non lo puoi mettere per bloccare ok, gotti Dove lo sfatto? Quando cammino così? Così di più? Così di meno? No, grazie. No, grazie. Salute. Perché questo... Allora... Qua va preso questo, che prende questo... Allora, trascino lui. No, io non so cosa bisogna fare. Eh... Serve lui che prende lei che prende lui? No? In che senso? Ma perché io posso guardare la trasmissione di Steam? Io sta cosa non la sapevo. Doll? Che cazzo sta succedendo? Scusa, ma cosa te ne fai del cubetto sotto? Quale cubo? Quello con l'1. No. Ma io non lo so. Penso vada trascinato da qualche parte quello. No, ma io vedo una persona ferma qui. Eh, Mirza perché sto facendo la pipì. Ah, ok. Allora. Quella... 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 Eh, però qua non si può saltare, allora. Ok. Eh, io... Ero fermo, comunque. Anche stava... Eh, questa cosa è che non mi dai fiducia con lo scudo. Ah... Infatti devi saltare quella con lo scudo. Ah, è perché Mirza poi che deve saltare. No, perché Lollo deve far uscire che ce l'è. Eh, adesso con te. Che è lui con lo scudo. Ah... Oddio, non c'è un modo però. Non c'è un modo di stare felice, diciamo. Che qua? Ho provato a gingerti ma non va. Giusto? Sì. Sì. Però Mirza aveva le pause simultanee e dobbiamo fare. Ehm... Mi è andato anche a farla pipì? Sì. L'ha detto? Sì. 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 Ma io ho citato lui. Magari ti rievocava qualcosa. Sì. Sì. Ma io ho citato lui. Magari ti rievocava qualcosa. Perchè non lo si. Perchè non lo si? Perchè non lo si. Perchè? ok chef arriva arriva non dobbiamo demordere gli sci dobbiamo avere fiducia no però non diciamo così siamo fortissimi tutto nelle nostre mani eh però qua c'è un problema secondo me non va portato giù eh capito era da mettere in testa qualcuno basta mettere il masso sulla testa di qualcuno prima grazie Jess ti giuro grazie non c'è il logo te lollo però a volte le cose sono più semplici faccio io grazie il masso va messo sulla testa di qualcuno fidate eh però ah perché il masso si può far saltare sì vai perché? ah quindi la persona che deve andare no ragazzi ah vedi il masso va lasciato lì su qualcosa lì ma che senso? ah 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 ma? è lag vogliamo portare il sasso dove siete voi con jess sopra ma anche io sto hyper laggando è il lavoro di Mirzav è proprio il suo lavoro non fa una piega grazie come è fatta a salire? ah da me ok ora secondo me il masso va da me che va da lui che va da lei oh dio ah hai capito cioè lei deve saltare quando il masso salta così lo spinge in avanti capito? devi spingerla in avanti il masso capito? devi saltare e spingerla buonanotte 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 sta venendo a piangere non è porco vai questa era bella una comunicazione della nuova ma quando hai un team così paga gente bravo sai che cosa ti dico? che anche tu puoi andare basta una sola persona sul pulsante non ne servono due eh sì no non hai capito basta una sola persona sul pulsante lui viene su di me e fa quel cazzo che vuole lui tu non devi saltare il masso è quello è l'olio che deve stare sopra il masso eh che devo fa? ora tu devi spingere il masso numero uno qua ma no ah sì è vero cazzo ha ragione e deve saltare il masso fate saltare quel masso fate saltare quel masso ancora di più ce la potete fare siete degli eroi ok e il masso può andarsene a friggere ciao masso e mo? si sposti eh però non so come noi tutti dobbiamo andarcene sì eh però il pulsante eh lei muore no lei muore così incredibile può essere io penso di voler morire in questo momento ma io no lag a tutti lag a tutti a me sta laggando guarda che roba cioè che roba è sto volando porco giudo e non so da che dipende ma mi sa che è lost non è che va in base a lost eh quindi uno di noi è lost io sono lo mio allora Mirza per te laghi eh grazie è una fregatura oh ormai Mirza ve lo sa fa easy oh qualche volta lo puoi far saltare quel masso è divertentissimo oddio no magari non deve saltare così oh madonna santa ma che cazzo ragazzi ho visto il masso volare ma come faccio a salirci no devo spingerlo ancora un po' perché devi spingerlo un po' più a destra ma non troppo a destra ancora oh ora puoi saltarci sopra prenderi la chiave ok adesso c'è il masso non no no quello avanti indietro no non devo farlo saltare e punto eh cala mo diamo la colpa agli altri lo lo cosa ti lo lo facciamo io andro allora eh merda sì ecco lo 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 farà morire qualcuno lo so già non so mi sento che qualcuno ci lascerà le penne oddio ma non è possibile qualcuno spinga quel bottone più volte magari da siamo arrivati ecco ecco nooo lo lo deve essere l'ultima persona col masso in avanti lasciami il sasso sopra così lo portiamo ti giuro ho sentito salta ho sentito salta oddio ragazzi eh ma io no non reggo più salta oh madonna salta oddio stavo per saltare ti dicevo a me viene qua è da prima che ho voglia io mi sposto? non ci credo eh ma è difficile eh beh è abbastanza eh cosa cazzo è successo ragazzi eh ma ah c'ha ragione eh però l'ultimo l'ultimo poi l'ultimo sono io ah no è giusto no no spostano 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 più vicino vieni qua vieni qua ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito tutto no 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 era già finita era già finita comunque ho capito voglio morire vuoi spiegare? se tu metti qua il coso e ti ci piazzi sopra mentre noi siamo tutti in questo oncolino noi tre saliamo mentre tu ci ripari ah non so ma sta cosa la sapevamo prima però vuole averla lui la barriera ecco contento come vi è da piangere eh però se eh perché Jess deve andare più aggressiva non lo sa brava Jess così Jess e Lollo un po' meno vai Lollo e niente Jess l'abbiamo perso è proprio il modo giusto oddio ma mi sa che devi toccarla un po' più piano Jess eccolo ma è easy ma è finita è vinta è vinta allora sto masso deve andare leggermente più avanti e cadere un po' più avanti di qua perché lui ci deve parare col masso la telecamera fa così non puoi dare leggermente sul tasto e ritornare mentre invece che andare da tutta l'altra donna così allora io no non mi levo perché il masso deve andare leggermente e più avanti porco Giuda se no rifamo di nuovo oh porco Giuda fallo saltare fai saltare quel masso ma salta via tu no sei tu che devi questo e adesso e adesso vai via destra ma no prende la cosa se salta sì oddio no adesso non saltate voi due finché lui non sa no non serve che salti il sasso ma perché il sasso lo devi portare tutto a muro guarda come salva e mi lascia è vero però è mo cazzo è mo cioè lei dovrebbe ah ecco ora tu puoi andare wow ok questo non era proprio così intuitivo beh poteva andare peggio è incredibile infatti la mia live è aumentata di 40 minuti di orario è vero ed era solo livello 2 scusate però scusate se la porta è lì perché noi dobbiamo andare a destra noi l'avete capito vero è tra un po' ciecato è la torre serve è Jess è l'unica che deve farla è Jess stavo aspettando che passasse il ventilatore eh no non devi aspettare va bene così eh no che nasse via salta oh perché ci dice di ah ma lol ok questo è stato più stupido perché primo livello è stato più complicato voglio saperlo per avere i meriti ovvio ovvio ho aperto io la porta easy ho avuto l'idea del salto eh ma lì il salto l'ho fatto io il primo salto solo il primo no vabbè ma così eh eh double è la nemesine di lol ma è veloce cazzo no ragazzi è veloce se andiamo uno per uno oddio si spinge verso il basso si muove anche eh sì eh sì vabbè diamo la scusa è graduale standard io ho già finito io ho già finito ah questa è una gara no non l'avevo no vabbè ragazzi mi è spanato un muro davanti cosa stavi guardando niente guarda guarda lollo guarda lollo che bastardo e li supera ah no no mi ha bloccato eh mo diamo la colpa agli altri dai oddio è incredibile pure lollo ogni volta muore è incredibile è incredibile è incredibile e vabbè ma diamo no no mi sono suicidato perché ho visto mi sono suicidato da prima flashback è stata una cosa oddio ho visto la morte mi fa muro mi aiuto oddio cazzo no sei morto prima tu ho visto della lag strana video della lag strana oddio oddio e c'è sta piegando in cazzo oh però quella lag forse è stato è stato meglio eh sì ci ha aiutato in quel momento molto difficile porco Giuda carina carina questa mo ecco ne merda premio Nobel oddio qualcuno deve saltare che qualcuno salta no avete capito che dobbiamo fare ma perché ti sei fermato lì in mezzo perché non puoi saltare devi fare la scaletta lì devi fare la scaletta sopra e la scaletta sotto sono sicuro al 100% e qua uno deve saltare di là e adesso ah no si può saltare capito quello che dico è in fretta però io non è io penso ma non è che parlo allo stesso momento in cui penso madonna no no allora eh vabbè diamo la colpa ai ritardatari oddio eh qualcuno deve andare però con che ci mettiamo troppo si qua devo andare prima io però vedo che qualcuno accelera ogni tanto oh easy bravi no pensavo devo poter saltare perché vabbè ma sta saltando invece no incredibile questi sei livelli di merda porco vai lollo vai lollo ok madonna eh però lo fai apposta è apposta eh lo fa apposta sta pulitendo perché siamo qui là andiamo scusate l'ultimo no eh io mi sono fatto coinvolgere da quella davanti intanto in questo livello è tu il guinness di morti perché io andrei sempre dietro lasciati io ho paura porco dio non lo so ma bravo ma bravo bene fare veloce eh così è troppo veloce però Mirza una donna va toccata piano oh bravo io mi sorprendo come faccio prima io oddio lo sapevo lo sapevo mo sentivo che devo rimanere dietro sì qua la gara è chi more di meno vai non chi lo capisce oddio e tra un po' lollo ci rimaneva per colpa mia oddio cosa c'era lì il don't push finale comunque era proprio il top lì mi son cagato addosso bella potrebbe andare meglio pure questa oh sta andando più lenta la schermo abbiamo vinto e ha finito bravi congratulazioni l'online mode all level clear vabbè ragazzi comunque può essere praticamente 4 euro se posso essere onesto ho visto giochi durare di più di questo 3-4 euro io non so che dire però 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 le abbiamo viste tutte abbiamo partecipato con grinta volontà qualcuno più intelligente di qualcun altro ma ce l'abbiamo fatta siamo dei sopravvissuti ma c'è no vabbè vabbè è bello bello